Tg Live, telegiornale regionale della Sardegna. Un caro saluto, benvenuti al Tg Live. In primo piano la politica per fermare le speculazioni delle multinazionali dell'energia rinnovabile in Sardegna. I gruppi di maggioranza in consiglio regionale hanno deciso di presentare una mozione. I dettagli da Eleonora Bullegas. Il gruppo del PD in consiglio regionale ha presentato stamane a Cagliari una mozione sottoscritta anche dagli altri partiti della maggioranza per organizzare una giornata di protesta, analisi e studio finalizzata a sospendere gli effetti a modificare i termini dell'articolo 20 del decreto legislativo 199 del 2021 sull'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il documento di cui è il primo firmatario il consigliere regionale del PD Salvatore Corrias vuole rappresentare una risposta alle attese provenienti dai territori, dai sindaci, dalle associazioni e dai comitati. Con questa mozione si punta a impegnare la giunta e tutto il consiglio regionale su questi temi affinché si reagisca con lo Stato rispetto alla necessità di concertare e concordare le scelte migliori a tutela dell'ambiente, del territorio e del paesaggio. Tra le richieste spiccano anche quelle dove si chiede il rinnovo del piano energetico regionale, fermo al 2016, e la convocazione di una riunione del consiglio regionale a Roma in piazza Montecitorio. E' finalizzata a difendere la Sardegna dalle peggiori speculazioni che di questi tempi sono assolutamente inammissibili. Le previsioni sono tali per cui se tutte quelle concessioni venissero accordate, e parliamo di fotovoltaico e di solare, andremmo a coprire una superficie spropositata rispondente a 86.000 campi di calcio. Questa è una cosa che solo ad immaginarla fa paura. Noi siamo tutti per l'ambiente, non possiamo dividerci tra chi vuole l'aria, l'acqua, la terra pulita, e invece chi vuole preservare il paesaggio. Sono due beni costituzionalmente garantiti, è diritto dei cittadini affrontare il problema, è dovere delle istituzioni rispondere. La precedente giunta poteva fare qualcosa di più? Avrebbe dovuto contrattare con il governo quali aree idonee potessero essere dedicate a queste attività, invece la Sardegna, come al solito, non ha partecipato a quei tavoli. E stamattina a Cagliari l'assemblea sindacale della CISL Sardegna ha eletto il nuovo segretario regionale e la nuova segreteria. La riunione rappresenta anche il segretario generale nazionale Luigi Sbarra. I dettagli sempre da Eleonora Bullegas. Pierluigi Ledda ha 58 anni bancario e il nuovo segretario generale regionale della CISL Sardegna. È stato eletto stamane a Cagliari con 103 voti su 109 votanti dall'assemblea regionale sindacale che si è riunita anche per l'elezione della nuova segreteria regionale. Ledda, che subentra all'uscente Gavino Carta, è stato per 13 anni segretario nella categoria nazionale dei bancari e per sette anni segretario generale a Sassari. L'assemblea ha eletto inoltre come componenti della segreteria generale regionale Mirko Idili di Olvia e Federica Tilocca di Oristano. La CISL regionale continua a guadagnare iscritti. Nel 2023 erano 138 mila, di quali oltre il 50% donne e il 40% pensionati. Tra le categorie più rappresentate ci sono quelle del commercio e del terziario, della funzione pubblica e dell'industria. La Sardegna del futuro è una Sardegna che deve imparare a progettare, a fare reti, a condividere, a guardare ai giovani, alle nuove generazioni, alle nuove tecnologie, agli investimenti produttivi. Noi dobbiamo lavorare con molto impegno perché ci sia un rilancio dell'occupazione e una speranza per questa nostra comunità. All'assemblea ha partecipato anche il segretario generale della CISL nazionale Luigi Sbarra che si è espresso anche a proposito dell'insularità e del fatto che, pur essendo stata inserita in Costituzione, non ha finora purtroppo dato le risposte attese. Noi dobbiamo fare di tutto per accelerare gli investimenti. Cominciare dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dicevo, dei fondi strutturali, del Fondo Sviluppo e Coesione. Investire sulle vie di comunicazione significa accrescere le potenzialità di sviluppo di questi terribili. Parliamo adesso delle prossime elezioni a Cagliari. Ora è ufficiale anche il partito sardo d'azione. Il dissidente Gianni Chessa con una nuova lista Sardegna Popolare per Cagliari appoggeranno la candidata sindaca del centrodestra Alessandra Zedda alle comunali di giugno. Questa mattina a Cagliari la presentazione ufficiale della coalizione che sostiene l'ex assessora regionale e vicepresidente della giunta Solinas. Sentiamo i dettagli dai colleghi di UTG. Vogliamo una Cagliari più ricca, più bella, una Cagliari dove si vive bene, quindi a misura di residenti, ma anche a misura delle attività produttive, del sociale, ripartendo dai quartieri, ma soprattutto apprendola al resto del mondo. Alessandra Zedda è pronta per la sfida delle comunali di Cagliari con un centrodestra unito e coeso che mira essere guida della città. Oggi si è tenuta la presentazione ufficiale dei partiti che sosterranno la candidata alle elezioni dell'8 e del 9 giugno. Al tavolo con Zedda, Alleanza Sardegna, Anima di Sardegna, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Movimento Civico, Sardegna al centro 2020, PLI, Riformatori, Sardegna Popolari per Cagliari e Udc. Presenti anche Pisdaz e Azione, i sardisti che avrebbero voluto Gianni Chessa candidato, dopo un primo strappo con la coalizione, hanno comunque deciso di puntare su Alessandra Zedda e su un'alleanza programmatica condivisa. Azione, invece, dopo una prima adesione al campo largo con Massimo Zedda, ha invece virato sul sostegno al centrodestra. La coalizione tutta è unita sulle linee programmatiche, sull'idea di guida che abbiamo rappresentato a tutte le forze politiche e sulla base di questi principi siamo tutti insieme. Il focus dell'azione programmatica della coalizione del centrodestra si concentrerà sugli interventi cruciali per migliorare la sicurezza della città, sulle infrastrutture, sulla mobilità, sulla pulizia e il decoro della città, con l'obiettivo di garantire una vivibilità e una sostenibilità che favoriscano la crescita e il progresso di Cagliari. Era questo il primo obiettivo, uniti, insieme, in modo condiviso e in modo concertato per la crescita e per il futuro della nostra città, che passa certamente per una città più sicura, più vivibile e soprattutto più pulita, ma anche dove la mobilità e il traffico diventano un punto di partenza, ma soprattutto un punto di pregio e non una difficoltà che da tempo stiamo soprattutto sopportando. Da Cagliari ci spostiamo a Sassari, sono sei finora i candidati alla carica di sindaco della città in vista delle elezioni comunali dell'8 e il 9 giugno. Il servizio è di Fabio Fresu. A cinque settimane dalle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno, i candidati sindaci per la città di Sassari sono ormai tutti schierati ai nastri di partenza. E non si annuncia una competizione facile, poiché anche i rappresentanti degli schieramenti principali dovranno vedere se raccondiversi a outsider. L'ultima decisione ufficiale l'ha presa il Campo Largo, dove il Partito Democratico, disegnato a scegliere il nome del candidato a primo cittadino dopo un lungo confronto interno, ha optato per il suo segretario provinciale e consigliere comunale Giuseppe Magia. Il centrosinistra non si presenterà comunque unito, dato che non ha trovato un accordo con il Movimento Costituente per Sassari, che quindi correrà da solo sostenendo la candidatura dell'ex magistrato Mariano Brianda, già in corsa nel 2019 proprio alla guida dello schieramento, che vinse al primo turno ma fu poi superato al ballottaggio da Nanni Campus. Nel centrodestra punta a guidare Palazzo Ducale il rettore dell'Università Gavino Mariotti, che però dovrà vincere anche la concorrenza del movimento civico che ha governato la città negli ultimi cinque anni e che al posto di Nanni Campus, che ha deciso di farsi da parte, sostiene la candidatura dell'avvocato e attuale assessore all'urbanistica Nicola Lucchi. Ma in corsa ci saranno anche il consigliere comunale Giuseppe Palopoli, a capo della lista Sassari Svegliati, e il gioielliere Manuel Pirino con il progetto Generazione Sassari, mentre l'ex consigliere comunale regionale Tore Piana ha deciso di ritirarsi dalla competizione. La scadenza per la presentazione delle liste dei candidati è fissata per l'11 maggio. E adesso veniamo alla cronaca, perché un piccolo aereo di servizio dell'ENA aveva finito fuoristrada mentre atterrava l'aeroporto di Olbia, Costa Smeralda, forse a causa del forte vento, di un problema ad una ruota. L'incidente è avvenuto intorno alle 13.30 senza causare feriti tra i tre membri dell'equipaggio. I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti per mettere in sicurezza la pista. L'aeroporto Costa Smeralda per consentire le operazioni di soccorso è stato chiuso, causando ritardi nei voli da e per l'isola. Nel complesso si tratta di ritardi significativi, perché al momento tra arrivi e partenze sono 32 voli in ritardo, 4 cancellati e 3 dirottati in altri aeroporti della Sardegna. Gli annunci non mancano. Stando alle ultime notizie in arrivo dal governo, ci sarebbero i soldi per la strada Olbia-Arzachena a Palau-Santa Teresa. Nel contratto di programma ANAS, Ministero dei Trasporti, però non c'è traccia dei nuovi finanziamenti. I dettagli da Stefania Costa. Se ne parla da anni e da anni si attende l'apertura dei cantieri. Sulla Olbia-Arzachena a Palau-Santa Teresa Gallura invece si va avanti ad annunce e proteste. Queste ultime, portate avanti da sindacati e sindaci dei territori interessati, quanto agli annunci vengono riproposti dalla politica a cadenza fissa, sempre in campagna elettorale. A pochi giorni dalle elezioni regionali della Sardegna fu il Meet, con un comunicato ufficiale del Vicepremiere e Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ad annunciare lo stanziamento dei fondi necessari per realizzare la nuova strada. Ad un mese dalle elezioni comunali la notizia è la stessa. La strada si farà. L'accordo troverebbe garanzia nel contratto di programma ANAS Meet valido fino al 2025. Contratto di programma che siamo andati a consultare. Pubblicato nel marzo scorso alla voce orientale sarda, nuova strada statale 125-133 bis, ovvero la Olbia Palau, prevede l'assegnazione di risorse per 88 milioni di euro, a fronte di un fabbisogno di 490 milioni di euro. Mancano all'appello solo, si fa per dire, 402 milioni di euro. Scendendo nello specifico relativamente al tratto San Giovanni-Arzachena, risalta la dicitura SP, ovvero interventi per i quali inizia l'iter progettuale al fine di un prossimo inserimento nel contratto di programma. In altre parole, non c'è un euro, almeno sulla carta di un documento ufficiale che porta la data del 21 marzo 2024.